Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini ha intensificato nelle ultime settimane le attività di verifiche e controllo per contrastare il fenomeno del lavoro nero e dell'incidentalità sui luoghi di lavoro. Sono stati soprattutto i cantieri edili l'oggetto delle verifiche effettuate dai carabinieri e dai ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Rimini. Nel complesso 14 le persone denunciate, 21 i cantieri e 3 i locali notturni controllati, 5 i lavoratori in nero individuati e 22.000 euro di sanzioni. I controlli hanno riguardato ogni aspetto dei luoghi di lavoro, dalla manutenzione delle strutture e degli strumenti, a volte trascurata, ai dispositivi per la protezione individuale, caschetti e scarpe antinfortunio che gli operai scordano spesso di indossare. Ma le verifiche hanno riguardato anche la formazione del personale e le idoneità sanitarie dei lavoratori, la logistica e la segnaletica nei cantieri. Ogni giorno il fenomeno degli infortuni sul lavoro provoca in Italia centinaia di feriti e vittime. Il Comando Provinciale di Rimini ha così sviluppato un programma dettagliato per far accrescere nei riminesi una nuova cultura della sicurezza sul lavoro, iniziando dai più giovani. L'Arma dei Carabinieri già da qualche anno su questa piaga nazionale degli infortuni sul lavoro sta cercando di porre rimedio in qualche modo, iniziando proprio dalle scuole. Infatti il Comando Provinciale di Rimini già con l'inizio del nuovo anno scolastico effettuerà tutta una serie di conferenze all'interno di queste scuole per diffondere proprio la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Perché pensiamo che comunque è importante che questi ragazzi che poi si approcceranno al mondo lavorativo arrivino già con una preparazione base, una filosofia di vita diversa rispetto a quella che magari c'era in passato. Nonostante i dati sugli infortuni siano in miglioramento, anche la provincia di Rimini non è esente da questo fenomeno. Nel 2011, in base ai dati ISTAT, sono stati registrati 7457 infortuni, di cui 5 mortali. Il dato è in miglioramento rispetto all'anno precedente, con una diminuzione del 9,9% in controtendenza rispetto a quello nazionale.